Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Anch'io, come la professoressa Garlatti, mi sento un po' una marziana in questa, ancora più di lei, perché ovviamente non sono una docente, sono una semplice giornalista che ha incrociato questo bellissimo mondo della ricerca e ne sono molto contenta. E anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo appreso, compreso, anzi, che un approccio multidisciplinare e multisettoriale può aiutare per creare quello che stiamo tentando di realizzare, cioè un'informazione più libera, indipendente e qualità. Quindi, la professoressa Garlatti ha parlato di lavoro, il sindacato dei giornalisti parla di lavoro. Noi abbiamo, purtroppo, come chiara, i riders, che abbiamo chiamato appunto i riders dell'informazione, perché il precariato è esploso nella nostra professione, al di là di quello che magari la gente può pensare, perché c'è un'immagine molto alta della professione. Quindi, io ho accettato molto volentieri di essere qui, di aver anche attraverso la federazione della stampa patrocinato questo congresso molto importante, perché l'orientamento interessa anche chi vuole fare informazione, chi vuole fare giornalismo. E quindi essere più consapevoli, la parola che ho citato ripetutamente qui è la consapevolezza, quindi essere consapevoli dei propri limiti, delle proprie potenzialità e di come poter essere appunto fautore di una scelta consapevole. Mi è piaciuto moltissimo anche il richiamo alla Costituzione, non a caso noi abbiamo fondato, è ventennale, diciamo noi, io no, sono arrivata da poco, uno dei fondatori è anche, mi piace ricordarlo oggi, Davide Sassoli. Purtroppo tra un'ora si celebrevano i funerali di Stato, Davide Sassoli è stato uno dei membri fondatori di articolo 21, vent'anni fa, che si rifà appunto alla Costituzione, perché la Costituzione ha molti diritti, ha soprattutto diritti, ma anche molti doveri. Quindi noi come giornalisti abbiamo il diritto di informare, cioè anzi abbiamo il dovere di informare prima di tutto e i cittadini il diritto a essere informati. Quindi adesso io ho anche parlato troppo.